Bella vecchia mattolia, ia ia oh! Bentornati bambini, oggi è il primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico. Visto che siamo all'inizio, vorrei che mi raccontaste come sono andate le vostre vacanze. Sì, è bello! Bentornati ragazzi, oggi è il primo giorno dell'anno. E siamo già in ritardo! Quest'anno dobbiamo recuperare un sacco di cose, avete anche gli esami e mi ispirate la stessa fiducia di forza rigorista! For my wrongs, I have just begun! Bella vecchia mattolia! Jacopo, mi presti la matita? No, la matita è mia e me la tengo! Dai! Ho detto di no a femminuccia, valla a chiedere a qualcun altro! Brutto! Daniel, mi presti la matita? Mamma, io ti presto l'astuccio, ti presto il banco, ti presto la casa, ti presto mia nonna! Ti presto tutto! Ti presto! Bella vecchia mattolia! Alzati amore della mamma! In piedi, coglione! Bella vecchia mattolia! Cari bambini, per la prossima settimana mi fate quattro esercizi di matematica e da studiare una paginetta d'italiano! Capre, entro domani alle 8 voglio tutti i 187 esercizi di agebra avanzata e tutta la fottuta divina commedia imparata a fottuta memoria! Bella vecchia mattolia! Allora, vediamo un po' oggi, allora, educazione fisica, sì, sì! Ciao ragazzi, come va? Ciao belli, tutto bene? Oh, ma io ti adoro, grande! Ciao! Ciao, amo! Sfigata! Perché? E' la vecchia mattolia! E tu, Daniel, che sei portata come merenda? Allora, ho una focaccia ligure ripiena, sì, poi ho un'altra focaccia con prosciutto cotto, mozzarella e insalata, e poi ho due litri di succo di frutta biocentrifugale! Cos'hai di merenda? Un cazzo! Come dai, un cazzo! Non c'ho soldi, qua è una brioche, costa come la paghetta mensile, io mangio gli astucci! Mi è rimasto solo questo! Maestra, posso andare in bagno? Ma certo, tesoro! Grazie! Prof, scusi, posso andare in bagno? Ta 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 Giulia, mi puoi pensare dei compiti per domani? Certo, tranquilla, ho tutto scritto qui Ah, grazie Teso, mi passaresti i compiti per domani? Ma certo, amo, ho tutto qui nella smemo Allora, sì, questa è storia Quella è inglese Ah beh, inglese, veramente, guarda, questa è inglese Educazione fisica Il pezzo forte Guarda qua Ah, manzo, adoro studiare, anch'io l'adoro E allora, come va a scuola il Daniel? Guardi signora, sua figlia è un angelo Così gentile, educato Sempre impaziente di imparare cose nuove E' davvero un bravo bandullo Meno male, dai, sono contenta E allora, come va a scuola il Daniel? Guardi, sono figlia è un co... Come scusi? Ehm, no, è bravo ma non si applica Ah, quindi è un coglione Allora, bambini Cosa volete fare da grandi? La stranata Il dottore Il dottore La ricercatrice Ragazzi, che cosa volete fare da grandi? Da youtuber Il calciatore Un cazzo, basta che mi pagano Bene bambini, tirate fuori la vostra penna e prendete gli appunti della lezione Sì maestra Bene ragazzi, tirate fuori la vostra penna e prendete gli appunti della lezione Oh, ma chi è che mi fotte le penne? Mi sape tu? No, mi sape sempre Quella penna lì è mia Oh, dove vai? Ladro! Vieni qua! Vieni qua! Daniel, guarda che bella che è Mara Eh, già Adesso vado là e le chiedo se vuole essere la mia fidanzatina Sì, vai, vai Eh, Mara, vuoi essere la mia fidanzatina? Oddio, sì Ti amo, Jacopino Ok, io ti amo, sì Sì, bravi Vi voglio bene Vi cippo un casino Oh, Dan, che figa che è Mara Oh, zio, cavalla Adesso lo lasci provo Oh, grande, dai, che secondo te la fai Grande, zio, vai Ma stai scemo? Ah, volevo chiederti se volevi essere la mia ragazza Ma neanche se fossi l'ultimo home sulla terra Sì, adesso Eh, Daniel, senti, ci ho provato Daniel Ma dai, ma era mia Eh, oh, se tu non sei capace me la faccio io Eh, buona giornata, ciao carissimo Ma che amico di merda Che amico di merda Ciao ragazzi, sono il Pondella Se vuoi essere elementare contro superiore Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su E a 130.000 like Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana E vi ricordiamo che quest'anno ci trovate anche su Sbemoranda Noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video E un saluto Se siete arrivati in questo punto del video commentate con lavagne Ci terrai tanto, grazie Noi vi ringraziamo per averci seguito anche questa settimana Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.